Le persone che lavorano nelle forze dell'ordine si tolgono molto spesso la vita. Ecco, attraverso questo video di oggi vengo a disvelare una situazione non proprio bella per quanto riguarda le forze dell'ordine. E quando parlo di costoro alludo e ai carabinieri e poliziotti ma anche a quelli che in qualche modo, in qualche maniera lavorano indirettamente proprio per la difesa e quindi la tutela del cittadino. Ecco, sappiate che questo video nasce dalla richiesta che mi ha fatto di recente l'amico Mino della Puglia alias Black Goku, il quale mi ha detto, guarda Leandro, che c'è una situazione abbastanza grave nel nostro paese d'Italia. Infatti molte ma non tutte le persone che lavorano nelle forze dell'ordine, per esempio carabinieri e poliziotti, si fanno fuori. E vuole sapere tu cosa ne pensi al riguardo, vuole sapere un tuo pensiero. Ecco, innanzitutto, caro Mino e cari amici di YouTube, voi dovete mettervi nella condizione di diventare di fatto per un giorno carabiniero o poliziotto. Questo lavoro io lo reputo un lavoro piuttosto rischioso, difficile da svolgere, pericoloso e che mette a repentaglio la vita di un essere umano. Perché sì, ci sono tutele, ci sono strumenti di tutela, però è anche vero che chi va a svolgere questo tipo di lavoro deve essere, oltre che coraggioso, anche dal punto di vista fisico prestante. Cioè, se io volessi fare questo tipo di attività lavorativa, per esempio, non la potrei svolgere. Punto primo. Punto secondo, si possono creare situazioni di depressione. La depressione da cosa potrebbe arrivare? Qualcuno potrebbe pensare, eh ma, Reandro, queste persone che lavorano nelle forze dell'ordine hanno uno stipendio fisso, quindi non è detto che abbiano crisi depressive, di depressione. Com'è possibile? Hanno uno stipendio fisso? Quale crisi potrebbero avere? In parte potrebbe essere vero questo ragionamento, ma sicuramente non lo è, perché non è solo questione di soldi. Perché un'attività come questa, ripeto, che può anche creare situazioni di grande depressione, di stress, e parlo di stress lavorativo, in cui lo va a svolgere. Quindi la motivazione che, secondo me, secondo conoscitore italiano, porta molti personaggi che lavorano nelle forze dell'ordine a uccidersi, a farla finita per sempre, è da attribuire a uno stress talmente forte, per quanto riguarda questa mansione lavorativa, talmente elevato, che di fatto si vengono a creare situazioni in cui costoro vengono a farla finita per sempre. Quindi è da attribuire alla carica lavorativa che vanno a rivestire, che vanno a ricoprire. Questo si traduce ovviamente in una situazione di puro disagio, un disagio che non riesce ad essere liberato in maniera serena e tranquilla, ma che riesce ad essere liberato solo attraverso il suicidio, che viene visto come ancora di salvezza per chi lavora nelle forze dell'ordine. Quindi le crisi depressive, di depressione, arrivano ad un livello talmente grave, talmente elevato, talmente profondo, che ecco che si instaurano situazioni in cui abbiamo degli esseri umani che lavorano, ripeto, nel campo delle forze dell'ordine che si uccidono, che si fanno fuori. Ora, e ripeto ora, qualcuno potrebbe sostenere che la mia teoria sia sbagliata, per carità ci mancherebbe altro, mi sta benissimo, però bisogna anche valutare e prendere in maniera coscienziosa le mie parole, cioè rendersi conto del fatto che le mie parole, sì, possono essere sbagliate, possono essere sicuramente inesatte, però molto spesso e volentieri a volte sono corrette. Quindi, attenzione, ora, chi lavora nelle forze dell'ordine ovviamente è, non dico obbligato, però è tenuto a dire, hai ragione, Leandro, quello che dici in questo video rispecchia la realtà dei fatti, perché io sono un carabiniere e lo stress lavorativo lo sento in maniera allucinante, ho uno stress che mi porta addosso, mi porto dietro, forte, perché ogni giorno metto a rischio la mia vita, o inoltre ho difficoltà, perché questo lavoro mi mette di fatto, oltre che nei confronti del pericolo a doverci stare, anche in uno stress talmente forte che non riesco a gestirlo, che mi provocherebbe boia addirittura di far la fida per sempre. Ecco, a queste persone che lavorano nelle forze dell'ordine dico, non fate cose azzardate, non fate gesti azzardati, pensateci bene, la vita è una, non è come nei videogiochi, del famoso videogioco Super Mario, che avevamo 5-6 vite, qui no, qui non è un gioco, la vita non è un videogioco, non è un videogame, hai una vita, giocatela bene, perché poi non ce ne sarà un'altra, non è che tu muori e poi rinasci, no? Mario Bros quando moriva nel videogioco Crash Bandicoot, moriva e poi rinasceva, perché c'erano delle cosiddette vite. Quante vite hai? Ho 5 vite, bene, io per 5 volte rinasco, ma in questo caso, nel caso attuale, cioè dei noi esseri umani, nella realtà dei fatti, noi non possiamo rinascere, noi abbiamo una sola vita, basta, poi non è che rinasciamo, no? Come fanno i videogiochi, quindi giochiamocela bene, sfruttiamola al meglio, ok? Detto questo, il mio parere resta questo, ovviamente ognuno è libero, liberissimo di pensarla come caspita vuole, io ho espresso il mio punto di vista perché, giustamente, Black Goku alias Mino, l'amico della Puglia, voleva sapere cosa ne pensavo, ed io ho risposto al suo quesito. Detto ciò, vi ringrazio, spero di essere stato chiaro, caro Mino, iscrivetevi, commentate, un saluto caro, al prossimo video da conoscitore italiano. Grazie a tutti.